Il momento di parlare del generale Vannacci, sì perché io ho evitato l'argomento finora perché ho detto vabbè dai parliamo di qualcosa di cui vale la pena parlare ma anche di qualcosa di piacevole, non è il caso di amareggiarsi così tanto toccando un argomento così ostile però adesso che lui viene candidato dalla Lega per le europee e dopo dopo le ultime dichiarazioni ma perché gli chiedete le cose al generale Vannacci io mi chiedo lasciatelo perdere no? No invece gli chiedono le dichiarazioni e lui le rilascia e io mi chiedo ma se un alieno dovesse atterrare sulla terra oggi e vedere che ci sono in giro esseri come Vannacci che cosa potrebbe pensare? Penserebbe che siamo ancora al medioevo come quando controlli la pasta al forno che ancora è a metà cottura dici no ancora questi devono maturare ritorniamo fra altri 2000-3000 anni perché quello che sorprende di quest'uomo è che nonostante quella che dovrebbe essere una cultura vastissima perché c'ha un sacco di lauree prese in Romania di qua e di là c'ha una chiusura mentale ragazzi che neanche mia nonna, rispetto parlando scusate che ho la foto di lei che mi guarda qua perché proprio le argomentazioni che presenta non hanno né capo né coda ora ultimamente lui ha fatto parlare tra l'altro indispettendo pure i fascisti di Fratelli d'Italia persino Ignazio la Russa in disaccordo contro Vannacci per quello che ha detto no per questa cosa delle classi separate che lui ha detto io sono dell'idea che i disabili dovrebbero stare in classi separate perché rallentano le persone normali lui ce l'ha con questo concetto di normalità la normalità per lui la normalità è garanzia di qualsiasi cosa ma qualcuno gliel'ha detto che lui non è normale cioè una persona che ha queste idee non è normale ma nessuno glielo dice tra l'altro fa ragionamenti da grande statista perché lui dice l'Europa è l'unico continente che non ha un animale che lo rappresenti abbiamo queste stelline ma che cosa sono le stelline qualcosa per i gay lui dice in Cina c'è il dragone sì ma il drago è un animale mitologico cioè fino a provare a contraria non sono esistiti i draghi animali che sputtavano fuoco forse ti sei visto a Game of Thrones vannacci in Russia c'è l'orso l'America c'è l'aquila anche l'impero romano c'aveva l'aquila ma che cosa vuol dire pure a Palermo c'è l'aquila in India la tigre ma l'India non è un continente ma lui ovviamente non lo sa se queste sono le argomentazioni è ovvio che lui si confonde fra nazione e continente e l'Europa non ha un animale e quindi tu vai in Europa per fare che cosa per mettere l'animale nella bandiera dell'Europa confonde gusti sessuali con orientamento sessuale che sono due cose completamente diverse perché l'orientamento sessuale è una cosa che si sviluppa con il crescere ma ce l'hai sin dalla nascita ebbene sì così come risulta una novità le persone che mi dicono ti faccio ritornare etero ragazzi non esiste una cosa del genere io non posso ritornare etero perché etero non lo sono mai stato sono nato così a 4 anni ci avevo la mia collezione di ventagli se non ci volete credere da quando andavo all'asilo i miei compagnetti ci avevano una fidanzata a me di avere la fidanzata non me ne fregava niente perché guardavo già in avanti io vedevo mia madre dicevo per carità ma io devo stare con le donne no è una cosa innata probabilmente prima di nascere già dalla pancia da quando la sentivo gridare io a mia madre dicevo io divento gay nasco gay quando esco da qua mi piacerà il cazzo però Vannacci è una persona che nei confronti di questo argomento non ha la minima conoscenza ma c'ha tanto da espettorare da esprimere e quindi la esprime nella maniera più istintiva gli viene chiesto cosa ne pensi di Marco Mengoni con la gonna sul palco lui dice ah ma se non siamo in Scozia se non siamo a Carnevale tu ti puoi mettere la gonna ma io sono libero di ridere che perfino gli esponenti della Lega si stanno rivoltando contro primo fra cui per esempio Zaia contro la decisione di Salvini di candidare Vannacci per le europee io che in quanto omosessuale lo dovrei detestare in realtà quando ascolto le sue parole mi rendo conto di una cosa lui non è in grado di capire quello che dice perché non è abbastanza intelligente non ha una cultura abbastanza solida e abbastanza spessa per poter capire quante castronerie dice quando le dice e me ne rendo conto per esempio quando lui parla della statua di Giulio Cesare perché lui ovviamente non ce l'ha neanche a morte con i omosessuali lui crede genuinamente che noi siamo un errore della natura quando parla di Giulio Cesare dicendo io discendo da Giulio Cesare noto bisessuale della storia perché Giulio Cesare aveva tanti amanti oltre a essere sposato con una donna perché questa era la cultura delle classi più abbienti a Roma mentre per esempio nell'antica Grecia tutti gli uomini avevano dei comportamenti omosessuali perché faceva parte dell'iniziazione dei giovani ragazzi e lui riguardo a Giulio Cesare dopo aver sparato a zero sui omosessuali dice ma io ho visto le statue di Giulio Cesare e mica c'aveva la gonna ma ma che cazzo vuol dire che non c'aveva la gonna perché non c'aveva le piume di struzzo cioè per lui gli omosessuali sono le drag queen essenzialmente quelli che si truccano quelli sono omosessuali cioè ha una visione così ristretta così ignorante che non guarda non vede al di là del proprio naso che mi fa quasi tenerezza perché in un paese normale dove le persone riconoscono lo stupido perché la cultura generale è intelligente lui verrebbe marginato lui farebbe la fine di quelli che chiama persone anormali ma siccome siamo in Italia e purtroppo viene sostenuto da troppe persone ignoranti che sono convinte che quando lui parla sia oro colato è tutto giusto perché va a guardare la definizione di normale nel dizionario è normale è che cosa è una variabile matematica la normalità non ha nessun valore intrinseco di qualità in una stanza con 38 gay ed un vannacci vannacci è quello anormale e la normalità è composta da gli omosessuali cioè la normalità non è un valore assoluto non esiste che qualcosa sia normale in qualsiasi contesto la normalità è una qualità che viene definita dal contesto tu invece parla di normalità come se fosse una qualità che o ce l'hai o non ce l'hai e non c'è speranza o fai parte della normalità o no perché? perché guarda sul dizionario fai utilizzare il dizionario a persone che lo sanno utilizzare tu dattelo in testa che puoi soltanto migliorare vannacci comunque si arriva ovviamente la sospensione di vannacci per 11 mesi per quello che aveva scritto nel suo libro 11 mesi ha stipendio dimezzato e zero contributi perché le sue frasi di odio possono creare emulazione dice proprio così la sentenza effetti emulativi e lesivi oltre al fatto che quello che ha detto lede il principio di integrità e di imparzialità delle forze armate italiane compromette il prestigio e la reputazione dell'esercito questo è stata la decisione del ministro della difesa contro cui lui ha annunciato di fare fatto ricorso al tar tra l'altro in concomitanza con questa sospensione arrivano delle penalità perché lui tra l'altro viene indagato a quattro indagini in corso una per truffa e istigazione all'odio razziale una per truffa e peculato per delle spese a mosca che non sono state giustificate a quanto pare se ne andava a pranzo e a cena per i cazzi suoi e ha chiesto i rimborsi poi danno era reale per via di un abuso delle auto dell'esercito nonché dulcis in fundo ciliegine sulla torta la denuncia la querela da parte di Paola Egonu la pallavolista italiana di colore perché lui ha detto gli italiani sono bianchi l'ha deciso lui l'ha stabilito lui ha stabilito il colore degli italiani questo denota anche una bassissima conoscenza proprio dell'antropologia della sociologia zero cioè non non dovrei neanche commentare una persona che dice gli italiani sono bianchi perché gli italiani sono bianchi se tu nasci in Italia da genitori bianchi se tu nasci in Italia da genitori neri sei italiano e sei nero se nasci da genitori cinesi in Italia sei italiano e sei cinese secondo me la persona che meglio di tutti ha capito il generale Vannacci è Crozza perché nella sua imitazione Crozza lo imita come una persona effemminata in certo senso secondo me ci ha beccato in pieno questo modo di parlare di esprimere le proprie idee queste idee sono le idee tipiche che io personalmente ho riscontrato nella mia esperienza di persone che poi si scopre essere omosessuali repressi tu non hai motivo di odiare di esprimere odio di esprimere differenze se non c'è qualcosa dentro di te che non va che non funziona che ti alimenta questa rabbia e questo odio interiore e penso proprio che quando Crozza lo imiti come una persona effemminata che dice delle cazzate che è essenzialmente una secondo me una riproduzione molto fedele all'originale magari non dico che ci azzecca ma si avvicina molto alla verità